Sono qui con un bellissimo video su Ken Yaman e Osh Gurel. In una toccante svolta degli eventi, le celebrità Osh Gurel e Ken Yaman si sono ritrovate riunite in una situazione inaspettata ed emozionante. Questo sviluppo inaspettato non solo ha riunito di nuovo gli ex co-protagonisti, ma ha anche evidenziato la profondità del loro legame e il loro incrollabile sostegno reciproco nei momenti difficili. Galden Yaman, nota per il suo stretto rapporto con il figlio Ken, recentemente si è ammalata gravemente e quando la sua famiglia e i suoi amici hanno saputo della notizia della moschea, impegnata in progetti internazionali, è immediatamente tornata in Turchia. La gravità delle condizioni di sua madre è diventata fonte di grande stress e ansia per l'attore. Ken Yaman ha condiviso con visibile emozione, mia madre significa tutto per me. La stessa malattia provocò un grande shock. Sapevo che dovevo essere lì per lui, qualunque cosa accada. Osh Gurel è subito intervenuta per sostenere Ken Yaman durante questo momento difficile in una commovente dimostrazione di solidarietà. Nonostante i suoi impegni e le voci periodiche sulla loro relazione, la reazione immediata di Osh Gurel alla notizia ha sottolineato il legame duraturo tra le due star. Osh Gurel diceva che la famiglia viene sempre al primo posto. Quando ho saputo della situazione di Galden Yaman, sapevo che dovevo stare con Ken e la sua famiglia. Abbiamo condiviso così tanto nel corso degli anni, è importante essere lì l'uno per l'altro nel momento del bisogno. Questa situazione ha avvicinato più che Mai Osh Gurel e Ken Yaman. Entrambe le star hanno messo da parte il loro orgoglio professionale e si sono concentrate su ciò che è veramente importante. Vale a dire la famiglia e i propri cari. Sebbene nata da circostanze sfortunate, la loro riunione fu una testimonianza della loro amicizia profondamente radicata e del rispetto reciproco. Grazie per aver guardato il nostro video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.